ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a sbirciare oggi è il frederico stante cronografo con calibro di manifattura ebbene si trattasi del cronografo con calibro in house che vede tra le sue peculiarità l'avere la funzione flyback non è una primizia già un po che è uscito che è in giro nei negozi ma come spesso capita l'ho lasciato in disparte me ne sono un pochino dimenticato e penso che sia il caso di dargli una sbirciata fare una panoramica su questo orologio perché federico stante è un marchio interessante ho già recensito in passato un paio di orologi della casa in primis il federico stanta highlife che è un orologio alla moda con bracciale integrato con calibro di fornitura e anche piuttosto diciamo non costoso per contro l'altro estremo ho recensito poi l'ore del mondo con calibro di manifattura veramente complicato e dell'aspetto veramente classico no elegantone che può anche non piacere a tutti veramente un orologio classico ecco questo cronografo di oggi si va a porre esattamente a metà tra i due all'aspetto così diciamo attraente appetibile di un orologio che va per le masse ok con però all'interno un calibro di pregio e di manifattura in house è esclusivo no lo andremo poi a vedere chiaramente l'orologio mi è stato messo a disposizione dall'amico giacomo che è titolare della gioielleria pasquali domenici di viareggio che a parte ufficiale del canale è concessionaria del marchio e a me mette a disposizione gli orologi e a voi vi fa un trattamento di favore nel momento in cui decidete di acquistare qualcosa da loro ma non solamente federico stante perché anche altri marchi una trentacinquina cena di marchi quindi per tutti i gusti prima di guardare l'orologino però vi mostro l'orologio del giorno il simpatico come al solito è un periodo rolex explorer con cassa da 39 mm quello che è fuori produzione al giorno d'oggi c'è quello da 40 mm nei negozi a catalogo questo qua l'hanno fatto fino al 2020 se non vado errato o forse 21 non ricordo bene o 20 o 21 va bene comunque 39 mm quadrante sobrio aspetto da orologio a tutti i giorni che non urla vendetta un bello orologio adesso giriamo la camera diamo una sbirciata a questo federico stand e poi ci troviamo qua come al solito per le considerazioni finali le misurazioni effettuate hanno decretato i seguenti risultati diametro cassa 41.5 mm spessore 13.9 ingombro trasversale al polso 50.5 e interasse ansa da 21 mm un bel cronografo di presenza che vede nel lag to lag il parametro più consistente ad onor del vero occorre dire che le ansie sono piuttosto avvolgenti e che quindi la portabilità è tutto sommato accettabile suggerisco come sempre una bella prova al polso per fugare ogni dubbio d'altronde un cronografo contemporaneo ha spesso la pretesa di apparire ben leggibile e ben visibile e questo non è diverso dagli altri a livello di design ci troviamo di fronte ad un insieme di linee tondeggianti e spigolose anche se a prima vista non si direbbe la parte laterale della carol spicca per la sua panciuta e morbida conformazione che termina poi in corrispondenza delle anse quest'ultime appaiono piuttosto voluminose lateralmente e ricurve verso il basso così come appaiono invece sottili se guardate dall'alto e qui inizia l'aspetto meno curvilineo dell'orologio ossia l'interno delle anse ben delineato e soprattutto la scelta dei pulsanti cronografici a base rettangolare si tratta di parallelepipedi alquanto voluminosi che rompono bruscamente la morbidezza delle linee fin qui viste occorre dire che la maggiore superficie offerta al polpastrello ha di per sé un valore aggiunto nel momento in cui rende più efficace l'utilizzo della funzione crono ma tornando alle linee tondeggianti possiamo notare che anche la lunetta ha un profilo curvo e dolce va a collegare cassa e vetro zaffero unendoli con la stessa filosofia del lato carol mi occorre segnalare che la finitura generale è lucida l'unico punto ovvio si nuota una leggera satinatura è la parte superiore delle anse ma la differenza tra le varie superfici non è poi così marcata e la spazzolatura tende visivamente a perdersi inutile dire che soprattutto la parte laterale sinistra quella priva dei pulsanti che può diventare ricettacolo di micrograffi in men che non si dica in quanto piuttosto ampia e ben visibile a suo favore va il fatto che si tratta del lato che al polso andrà verso il vestiario e quindi meno esposto occorre comunque prestare attenzione soprattutto se non si è disposti a fargli vivere una vita senza pensieri insomma non è il classico daily watch da usare ogni dove poi ognuno è libero di utilizzarlo come meglio crede un paio di graffi non ne muteranno certo il pregio ruotando l'orologio possiamo dare uno sguardo al fondello che ci appare avvitato la cassa e trasparente l'impermeabilità dichiarata è pari a 5 atmosfere sufficiente ad un utilizzo quotidiano non acquatico d'altronde la corona pressione e di pulsanti crono rappresentano in questo caso il limite strutturale nulla da segnalare a riguardo il fondello stesso se non che il trasparente è in zaffero e che tutto sommato il rapporto superficie vetro anello di acciaio non ci restituisce il famigerato effetto ciambella che tanto non ci piace è ben proporzionato al di sotto troviamo il calibro che anima l'orologio e cioè l'fc 760 realizzato in house da frederick constant la prima pressione positiva è dovuta alle decorazioni presenti che seppur di livello industriale riescono ad allietare l'occhio in maniera soddisfacente da segnalare il perlage sullo sfondo del bilanciere e le code genève sul mega ponte unico che attorni al bilanciere stesso forse un po troppo grande ed invasivo si tratta di un cronografo modulare che presenta lo smistamento tramite una ruota a stella brevettata una specie di mix tra lo smistamento a camme e quello a colonna composto da ben 233 elementi di cui 96 dedicati al modulo cronografico che ha la particolarità di avere la funzione flyback ossia è possibile resettare e far ripartire la lancetta istantaneamente in modo da poter cronometrare di seguito più eventi temporali non lasciamoci poi ingannare dalla configurazione tri compacts del quadrante troviamo ad ore 3 i minuti crono ad ore 9 i secondi continui e ad ore 6 il datario circolare una soluzione che personalmente trovo poco usufruibile per chi ha qualche problema di vista anche forse solo l'età mentre per contro ci restituisce un certo appeal estetico tipico dei crono a tre contatori specie se posizionati in questo modo e specie se a contrasto con il quadrante il cosiddetto panda reverse qui viene applicato utilizzando due tonalità particolari il blu scuro del fondo e l'argento dei sub dyas il primo a finitura soleil tenue non troppo accentuata mentre i sotto contatori vedono la tipica lavorazione a cerchi concentrici che gli consente di staccarsi di netto dal quadrante principale teniamo anche in considerazione il fatto che sono scavati e ci regalano anche quel tocco di tridimensionalità che non guasta mai a corollario sul bordo esterno troviamo gli indici applicati sfaccettati ed in rilievo appaiono ben visibili anche se piccoli ma questa vuole essere la mission dell'orologio rimanere sotto traccia ed apparire alquanto elegante a tal proposito è quindi condivisibile l'assenza di materiale luminescente anche se un piccolo sforzo lo si è fatto sulle sfere alfa è presente un limitato quantitativo di superluminova talmente ben mimetizzato che non va ad inficiare la classicità dello stile e dallo stesso tempo riesce a restituirci una qualche luminescenza al buio a parer mio si tratta del corretto compromesso tra luminescenza ed eleganza nel complesso volendo riassumere abbiamo un quadrante che non emula eccessivamente i protagonisti del passato ma che con stile contemporaneo riesce a riproporre un aspetto formale ed elegante ed in questo senso non poteva essere altrimenti la scelta del centurino e alligatore anch'esso di formale apparenza risulta essere ottimamente realizzato si concede poi un piccolo tocco di sportività andando a mettere in evidenza quelle cuciture bianco panna che spiccano lungo i suoi bordi buona anche la scelta di avere la chiusura deployant singola che pare ben dimensionata allo stile ossia è in acciaio pieno lucido ma non eccede né in spessore né in dimensioni generali hanno saputo scegliere le corrette proporzioni per non appesantire visivamente il sistema devo in ultimo fare un paio di considerazioni a riguardo della fibbia che rappresenta un piccolo tocco di classe mentre avanzo dei dubbi sul sistema di chiusura è semplicemente ad incastro a pressione e per aprirlo occorre poi far leva sulla buckle o tirando il lembo del cinturino non mi sembra un metodo alquanto ortodosso possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali ottimo 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 cioè un cronografo con calibro in house esclusivo a 3600 euro di listino è tanta roba cioè non fraintendetemi sono soldoni ma visto come si è messo nel mercato al giorno ad oggi direi che c'è da lecarsi i baffi un cronografo già di per sé più costoso rispetto ad un solo tempo di pari specie no poi se ci mettiamo che anche con un calibro in house con una funzione flyback ecco che abbiamo detto tutto poi 3600 euro sono a listino qualche sconto si può acchiappare io dico che sotto i 3500 ci si arriva e quindi diciamo che può essere considerato un best buy un cronografo calibro in house a meno di 3500 i punti deboli ce li voglio mettere proprio tutti voglio esagerare voglio dargli contro e spaccargli le gambe quali possono essere punti deboli che è tutto lucido tutto lucido ci sta tutto un orologio tutto lucido non è il massimo della vita anche se ha il suo perché in certe situazioni il cinturino il fatto che non arriva col bracciale ecco il fatto che non arriva con un bracciale per me è un minus perché mi piacciono gli orologi braccialati in genere però con questo cinturino in alligatore ecco diventa un classico la leggibilità non ottimale dai non è il massimo della vita questa leggibilità ma allo stesso modo e si tratta di un orologio classico quindi bisogna un po accontentarsi e poi la chiusura che non è tanto comoda da aprire così semplicemente a pressione e a scatto ma lascia un tempo che trova quello sì spero di avervi convinto a non comprarlo comunque in ogni caso tenetelo presente quando pensate a un cronografo con calibro in ausa a un buon prezzo e questo vale anche per me perché spesso mi chiedono suggerimenti no a riguardo di questo di questo segmento di mercato io mi dimentico sempre di federico stanto mea culpa mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love